Quando Aristotele dice che il mondo, la società, è un po' come fosse un grande mercato in cui ognuno viene e compra o vende ciò di cui ha bisogno per una questione di interesse e quindi in qualche modo si mette in vendita oppure si predispone ad acquistare per appunto migliorare la sua vita soprattutto da un punto di vista materiale e dice che c'è solo una persona che resta al di fuori del mercato e che osserva tutto e non compra né vende e questo è il filosofo, di fatto è avvenuto uno scatto, qualcosa di nuovo. La filosofia precedente, quindi la filosofia che si è evoluta e sviluppata prima di Aristotele, era una filosofia, era un pensiero che considerava il filosofo una caratteristica tipica dell'uomo, di ogni uomo in quanto uomo, cioè l'uomo ha come sua essenza, è per quello che attiene alla sua essenza, un filosofo, è filosofo, è filosofo perché il suo ruolo è quello di cercare e così come il merlo non può che fischiare per essere veramente un merlo e nessuno fischia bene come il merlo, così l'uomo come sua natura particolare pensa, riflette ed è un pensiero che non è legato al commercio, che non è legato agli interessi materiali ma è soprattutto quello che lo contraddistingue un pensiero legato invece al meditare sul senso. Ecco questa è una cosa che poi si svilupperà nel tempo sempre di più nel corso della filosofia, l'uomo è colui che cerca e questa è la sua caratteristica che lo distingue dagli altri esseri viventi. Ora il problema è che quando Aristotele dice questo significa che invece ci sono uomini e uomini, ci sono uomini che restano fuori, sono pochi, sono quelli che osservano, sono quelli che pensano, quindi sono filosofi e tutti gli altri sono dentro quel gran mercato, a comprare e a vendere. Non è una bella immagine vista dal filosofo, non è neanche bella se pensiamo che l'uomo quindi, secondo Aristotele, è diventato in qualche maniera massa, anche se il concetto si svilupperà molto più in là, ma comunque è un qualche cosa che è molto differente e molto lontano da quella che era la sua essenza, cioè quella del pensare, che viene di fatto, diciamo, assegnata e attribuita soltanto al filosofo. Insomma, l'uomo non è più filosofo in quanto uomo, ma l'uomo può esercitare, diciamo, il ruolo del filosofo oppure continuare a occuparsi di cose materiali, di fatto in questo modo riavvicinandosi un pochino a quelle che sono di fatto le modalità con cui vive qualsiasi essere vivente che necessita di cibo, di attività legata alla riproduzione e via di seguito. Ora, al giorno d'oggi e soprattutto attraverso uno sviluppo, o se volete da un certo punto di vista anche un'involuzione che dalla fine del Settecento è occorsa fino a noi, sempre di più il filosofo è una realtà separata. Con la differenza che, ancora fino a Galilei per esempio, il filosofo era di fatto qualcuno che comunque si occupava di cose molto importanti. Galilei non poteva nemmeno pensare all'idea di essere chiamato un matematico. Per lui matematico voleva dire qualcuno che si occupasse di cose troppo astratte e troppo, diciamo, lontane da quella che è la realtà densa di significato nella quale viviamo quotidianamente. Amava chiamarsi, farsi chiamare, farsi definire fisico oppure filosofo. Per lui fisico o filosofo erano due termini coincidenti. Significava colui che si occupa di cose reali, di cose che hanno a che fare con la natura e quindi non uno con la testa per aria, con la testa tra le nuve. Ma in realtà questo aspetto è degenerato ulteriormente e dal Settecento in avanti il filosofo è diventato una professione e quindi è colui che si laurea in filosofia e che poi svolge questa professione spesso nell'ambito dell'insegnamento oppure nell'ambito dell'editoria, della divulgazione e via di seguito e tutti gli altri fanno altro, sono sempre impegnati in quel famoso mercato di cui parlava Aristotele. Il filosofo è colui che svolge la professione del filosofo. Questo non solo è un segno di alta degenerazione del concetto stesso di filosofia perché di fatto significa che è diventato un ruolo che per giunta deve essere retribuito. E questo è un aspetto che insomma veniva già considerato in maniera molto negativa ai tempi di Socrate, ai tempi dei sofisti, quali appunto erano ritenuti delle prostitute proprio perché insegnavano facendosi pagare. Pensate quindi oggi a che livello di prostituzione dovremmo essere in qualche maniera ritenuti nel nostro vivere sempre e soltanto in funzione di una retribuzione, quindi di un pagamento in termini monetari. Ma non solo c'è questo aspetto che è inquietante, c'è anche l'aspetto che il filosofo è diventato di fatto qualcosa che non serve più in una società in cui contano soltanto i soldi e i beni materiali. E così recentemente, proprio stamattina, leggevo commenti relativi anche a video messi su questo canale dal sottoscritto, nei quali ci sono persone che magari, come si può dire, esprimono il loro parere a volte anche contrastante, divergente rispetto a quello che io sostengo o dico, usando una terminologia completamente sbagliata, usando concetti inappropriati e quindi di fatto portando avanti un ragionamento che non funziona e che traballa in tutti i modi proprio perché non sono più avvezzi alla logica e al ragionamento coerente e tantomeno all'utilizzo dei termini adatti. Questo è un aspetto inquietante, sappiate che chi studia filosofia, comunque chi lo fa con una certa cognizione di causa e una certa concentrazione, deve stare molto attento ai termini che utilizza perché è come se in un'espressione matematica cambiassimo una variabile con un'altra o una cifra con un'altra, bisogna stare attenti, ne va diciamo della scientificità e quindi della divulgabilità e insegnabilità, come direbbe Platone nel Protagora, di ciò che affermiamo. Eppure questa cosa sembra non essere interessante, mi riferisco per esempio ad aspetti che possono risultare folli come quando nel corso di un esame che io diedi molti molti anni fa all'università a Torino, mi venne chiesto da un insegnante che insomma tutto sommato era anche molto famoso e molto pieno di esperienza, mi venne chiesto quando io dissi il fatto è che lui mi bloccò e mi disse, mi chiese che cos'è un fatto. Ecco, questo per dire che usiamo parole senza in nessun modo renderci conto poi di che significato abbiano e siccome utilizziamo le parole e i corrispondenti concetti per ragionare portiamo poi a compimento ragionamenti completamente sballati sui quali in certi casi costruiamo una condotta di vita, una serie di principi a cui ci atteniamo nella nostra esistenza quotidiana. Tutto questo è drammatico, drammatico perché la filosofia è comunque quest'arte di cercare che necessita, diciamo si alimenta comunque di una precisione, di un'attenzione all'incedere del ragionamento, quindi ai singoli passaggi ma anche ai termini, ai concetti, alle parole che vengono utilizzate. Il problema è che in una società in cui la filosofia viene considerata inutile e in quanto tale è una società che dimostra quanto sia fondamentale invece perché più una società ritiene inutile la filosofia più si rende evidente la necessità urgente che ne abbia. In realtà in una società di questo tipo il filosofo non viene neanche più ascoltato perché ognuno crede di poter arrivare a qualsiasi ragionamento sulla propria vita, a proposito delle cose più importanti della propria vita, senza bisogno che ci sia il filosofo che venga a chiarire, a dire la sua e quindi a pontificare o addirittura a ergersi al di sopra di lui. In realtà da un lato è veramente incredibile come se dovessimo ascoltare per esempio, che ne so, un geometra che deve occuparsi della nostra abitazione. In quel caso saremmo assolutamente attenti a quello che dice e ci fideremmo di quello che afferma poiché ha esperienza e conoscenza, ha studiato, ha titolo per fare questo, ecco invece saremmo e siamo di fatto assolutamente poco, poco se non per nulla interessati a quello che può dirci un filosofo poiché riteniamo di poter fare tranquillamente da soli, senza renderci conto che ormai ai più mancano totalmente gli strumenti per poter portare avanti questo far da sé e questo poi lo si vede nella realtà che ci circonda e in quello che sta accadendo. Ma dall'altro lato è assolutamente inquietante, forse di più, il fatto che invece questo aspetto della ricerca debba e dovrebbe insomma tornare ad essere l'aspetto costitutivo della vita di ognuno di noi e quindi dovremmo ricominciare a renderci conto che ognuno di noi è chiamato a essere filosofo e quindi è chiamato a riprendere in mano la riflessione ma fatta in modo appunto scrupoloso, coerente e quindi attento a ogni passaggio come dice Cartesio quando nel suo discorso sul metodo spiega proprio che la scientificità nasce proprio da questo binomio di evidenza, dal concetto di evidenza che di fatto è un binomio che si può considerare come l'insieme di chiarezza e distinzione, quindi ogni passaggio chiaro, ogni passaggio distinto dall'altro, chiaramente con una terminologia attenta perché a ogni parola che si sceglie corrisponde un concetto ben preciso ed è evidente che questo sia un aspetto a cui in teoria, anzi per natura, se sentiamo quella che è la definizione dell'uomo sin dalle origini della nostra riflessione filosofica dovrebbe essere fatto da tutti appunto con scrupolo ma anche nella piena consapevolezza che si tratta della nostra stessa natura, di ciò che ci contraddistingue. Ecco, voglio terminare così questa riflessione perché di fatto siamo in una situazione complessa, siamo in una situazione complessa perché non siamo più in grado di pensare, siamo in una situazione complessa perché nonostante questo continuiamo a pensare in maniera sbagliata, siamo in una situazione complessa perché chi invece è stato addestrato a pensare in maniera coerente e affidabile viene lasciato a margine della nostra vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.